Mi pensa di bai, però bai, per me d'una, se ora fanno un po' di compro di un bia maschi, come ti pensa? Mi pone poco tela, mi pone un po' di papel, che c'è il turco, come ti ha raggiato, come se ti ne ha conto con me, e mi chiede per arrivare, come se ti ne ha conto con il ten-point plan di CARICOM, l'organizzazione del Caribe, non è stato il processo di formulare, come se pensano, se non è stato in cara, non è stato completamente riba il trayecto di riparazione, per esempio, la salute. La gente non sa che non ha cambiato la sclavia, che hanno un'investigazione, che hanno fatto un'investigazione per avere un remedio, per esempio, per la tensione alta, per noi, non è stato un'investigazione, ma non è stato un'investigazione, per avere un'accesso a la informazione scientifica, qui anche, sa che cosa sta succedendo nel Caribe, che cosa sta succedendo in America, in Africa, anche a me lo dice, e sa che mi ha visto il governo holandese anche, con le cose che, whatever it may be, a me non posso explicare cosa sta, ma non sa, mi anche mi escucha, ma non ho fatto altre reazioni di me, come ti ho pensato, buono, però mi non ho fatto un reazioni, mentre mi sta sempre ponendo mi cose per papel, e quindi, mi consulta con il differente gruppo, come ti ho 20 anni, e ora, qui, mi consulta con me, e mi ripara, che cosa sta creando, un' 67, quindi, questa cosa è una legale, perché nel tempo, ci si procurano LOCOL, ma non c'è la nostra, se non so, come si è una gente, che si Под線ero, se mettono a evolving, c'è una lucha, traizione, , ma non so, invece, ci si puòermi, ipnot ар Antarcare, per aspettare altre altre, per fatto, might stringendo le proposte, una ritesa, ma la mia opinione, però lo che stai facendo ora qui è direttamente troppo e reina e defini l'Ulanda ha determinato un feccio, è incorrecto, tutti i costi bisogni tutti i voti in cosci